Traditi e abbandonati, presi in giro e offesi nella propria dignità, il dramma di ACC sta nelle parole, stanche ed esasperati dei lavoratori. A loro oggi in assemblea sono state comunicate le decisioni del commissario straordinario Maurizio Castro. Taglio del 15% degli stipendi, cassa integrazione per quattro giorni in aprile, riduzione dei volumi, fuori dai cancelli la Digos per monitorare il clima, flare maestranze. Il governo deve sapere che questa situazione è una situazione che può generare una tensione sociale forte e quindi è chiaro che i lavoratori sono delusi, sono arrabbiati, anche perché, ripeto, qualcuno gli ha promesso che una soluzione diversa c'era, era possibile, era traguardabile. La mobilitazione sarà proporzionale alla rabbia dei 300 lavoratori che equivalgono a 300 famiglie, oltre all'indotto, tutti inspiegabilmente senza la risposta del governo che non ha mantenuto fede all'impegno di avviare il progetto Italcomp, ratificato lo scorso autunno ma abbandonato come una rave alla deriva. Il problema che ci sta tradendo è il governo, è l'istituzione massima, è lo Stato, quindi per questo più del passato questi lavoratori oggi hanno fatto sentire la loro voce, perché oggi si sentono traditi dallo Stato, dal governo, che sia il governo passato, che sia il governo attuale, vengono traditi dalle istituzioni. Una fabbrica che ha prodotto più e meglio di prima e dalle quali ieri è uscito il primo bancale di compressore a velocità variabile destinato al mercato medio-alto, un paradosso, sul banco degli imputati politica, istituzioni e banche, silenti di fronte alla storia industriale della provincia di Belluno. A fronte di una garanzia dello Stato non c'è nessuna alibi per le banche. Il primo finanziatore del progetto Italcomp sono stati i lavoratori di Unvao ACC, che sono stati costretti a rinunciare a parte del loro stipendio per poter far andare avanti il progetto.